Questa è una passione, mio babbo era fotografo e quindi ho ereditato da lui la passione per queste immagini, per riprenderle, per essere riprese e riportarle. Nei miei viaggi ho curato tanti temi diversi, fra cui quello del lavoro dell'uomo, che qui vedete esposto. Sono scatti in analogico, stampati in carta baritata, fatti a Calcutta, che è una città fra le più sottosviluppate del mondo, con 16 milioni di abitanti e tanti altri milioni che stanno sulle strade, dormono sulle strade. E raffigurano e prendono in considerazione il lavoro pesante, soprattutto quello fatto dai bambini. Come vedete questa bambina che sta trasportando della creta per fare mattoni a mano. Voi pensate un'immagine così, già quanto possa essere pesante un insieme di creta in questo modo bagnata, terra bagnata. Quindi è un lavoro molto duro, fra l'altro fatto a una temperatura irresistibile, si avvicina quasi a 50 gradi.